Un segreto celato per quasi 30 anni che viene a galla solo. A confessarlo è Nicole Kidman che parlando dei tempi in cui era sposata con Tom Cruise ammette di aver perso due figli. Al magazine britannico Tuttle racconta come diventare mamma è stato un percorso lungo e doloroso, un miracolo. Infatti, l'attrice spiega si aver perso un primo figlio nel 1990, all'età di 23 anni. E nel 2001 è tari perso il secondo con un aborto spontaneo. Conosco il desiderio immenso e doloroso, ha spiegato la Kidman, la perdita che si prova dopo un aborto è qualcosa di cui non si parla abbastanza, ma è un grandissimo dolore. Con Cruise hanno adottato due figli, nel 1992 Isabella e Connor nel 1995. Da lì il secondo matrimonio con Kit Urban ha avuto Sunday Rose nel 2008 e Faith Margaret nel 2010, da una madre surrogata. Un sorriso ritrovato, con Kit siamo una famiglia molto unita e in cassa parliamo di tutto. Prendiamo molto seriamente la responsabilità di essere genitori, ma vogliamo anche avere una conversazione aperta con i nostri bambini.